Buonasera a tutti, scusate il ritardo, Mario Martone è appena arrivato da Parigi quindi abbiamo dovuto un po' aspettare il suo arrivo e grazie di aver aspettato questi minuti in più. Mi scuso anche perché forse la sala è un po' fredda, abbiamo avuto un piccolo contrattempo, un problema con l'impianto di riscaldamento che forse non è proprio la temperatura ideale ma spero che non sia troppo freddo per voi. Questo incontro è un incontro che si intitola tra teatro e cinema, abbiamo già l'anno scorso inaugurato questi incontri con la presenza di Paolo Sorrentino e abbiamo ideato questi incontri in collaborazione con il Torino Film Festival e ringrazio appunto Steve Della Casa che è il direttore del Festival e abbiamo individuato, incentrato questi incontri sul rapporto tra il teatro e il cinema perché penso che ci sia una grande forza nel teatro, in alcuni registi che appunto nel caso di Paolo Sorrentino abbiamo individuato nella presenza del monologo, abbiamo ospitato Paolo, appunto abbiamo ascoltato i monologhi presenti nei suoi film e nel caso di Mario Martone invece appunto la presenza del teatro è molto 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 grande Mario è sicuramente un regista di cinema ma è anche un regista di teatro, ho cominciato come regista di teatro è anche un regista d'opera e quindi diciamo in questo spaziare tra il teatro, l'opera e il cinema ho pensato che fosse il regista perfetto per parlare di questa contaminazione, di questo scambio, di questa apertura questo anche perché io desidero sempre non considerare il teatro come una scatola chiusa ma come un luogo aperto in cui tutte le discipline confluiscono confluiscono e in qualche modo si raccolgono e dialogano e anche si stimolano l'una con l'altra e tutto questo, questa impostazione, diciamo questa visione del teatro come luogo aperto la devo proprio a Mario Martone perché ho lavorato con lui per molti anni come assistente alla regia e Mario è stato il regista che più di tanti altri a Napoli ma diciamo con poi diciamo uno sguardo che andava spesso anche fuori dalla nostra città e adesso spazia diciamo in tutta Europa e anche nel mondo è appena tornato da Parigi dopo aver presentato alcuni dei suoi film proprio a Parigi in questa sua esperienza diciamo che è cominciata negli anni 80 e proseguita poi negli anni 90 quando io sono diventato suo assistente c'era sempre questo sguardo aperto, questa porta aperta che era anche il nome, il titolo della rivista che si pubblicava quando Mario è stato direttore del Teatro di Roma e questa apertura continua, cioè questo desiderio di aprire continuamente lo sguardo a delle altre discipline come l'arte contemporanea, il cinema, confluiscono appunto nel Teatro di Mario e nel Cinema di Mario c'è la presenza fortissima del teatro la sua esperienza comincia appunto come regista teatrale negli anni 80, giovanissimo insomma poi sarà di tour raccontarcelo ma già a 17 anni comincia con la sua prima esperienza teatrale che poi si traduce, si trasforma pian piano nell'esperienza fondamentale di Teatri Uniti che è un'esperienza collettiva nella quale confluiscono anche appunto si sperimentano anche degli strumenti diversi come il cinema, come l'opera più tardi e in questo suo continuo scambiare esperienze tra teatro e cinema io ho conosciuto, sono stato folgorato da uno spettacolo che Mario aveva fatto che era Ritorno ad Alphaville che è stata la mia prima esperienza diciamo il momento in cui ho deciso che volevo fare anch'io il teatro e una cosa che non ti ho mai chiesto e comincerei con una prima domanda e qual è stata l'esperienza che invece ha folgorato te? io casca a fagiolo come si dice allora scusate in realtà mi ero preparato con questa scusa ecco qua, mi sentite? ecco qua no, domanda che cade a fagiolo perché appunto a Parigi dove sono stato per presentare alcuni film però domenica è il giorno libero e c'era Einstein on the beach di Phil Glass che appunto io vidi allora è uno spettacolo mitico degli anni 70 in realtà io comincio negli anni 70 non negli anni 80 che comincio perché avevo 17 anni quindi io sono della fine del 59 e nel 76 vado a Venezia e vado e perché vado a Venezia? perché vado alla Mossa del Cinema perché quindi perché ero appassionato di cinema e comunque alla Fenice davano Einstein on the beach di Phil Glass Bob Wilson Lucinda Childs e quello quello spettacolo certo mi aprì la mente fu una folgorazione uno spettacolo di sei ore non so se voi avete idea più o meno di che cosa fu questa cosa che venne definita mi ricordo il ballo e il celsior dell'avanguardia perché era un grande spettacolo ed era soprattutto una incredibile dimostrazione di fiducia nella modernità nel ritmo nell'idea metropolitana se vogliamo comunque mi ricordo c'era in questo grande treno poi Bob Wilson un grande artista visivo è un'idea di montaggio stupenda oggi a distanza di 50 anni una regista tra le più importanti della scena internazionale che si chiama Susan Kennedy ha rifatto Einstein on the beach sulla base della musica di Phil Glass però completamente un altro spettacolo quindi è stato bellissimo che sono andato cioè proprio 50 anni dopo ed era era abbastanza straordinario spettacolo completamente diverso il mondo è completamente diverso zero fiducia nella diciamo nella civiltà umana tecnologica e così via completamente immerso in un'idea di natura in un'idea di se vogliamo appunto tra l'ancestrale è il futuribile però diciamo nella natura spettacolo completamente fluido non ce lo so Einstein on the beach era sul palcoscenico io ero la finisce era lì guardavo questo invece era un grande al teatro della villetta che è come se fosse questo dieci volte tanto e quindi immaginate lo spettacolo qui e tutte le persone che potevano venire come se voi adesso poteste vi muoveste veniste qua camminaste intorno a noi dietro avanti cioè total libertà spazio aperto e così via bellissimo cioè l'apertura poiché quella è stata un'esperienza importante per me da spettatore rivederlo dopo 50 anni e rivederlo con questa capacità di rinnovamento cioè di guardare la base fantastica della musica di Phil Glass cioè ho capito se mai ce ne fosse bisogno diciamo che genio sia Phil Glass perché una cosa è sentire un brano di Phil Glass e diceva boh no un'altra cosa è invece immergersi in una partitura che allora era di sei ore e comunque domenica era di tre ore e mezzo dove invece senti veramente la follia la così la forza anche il virtuosismo insomma di questa e comunque diciamo questo per dire che insomma sì questo senso di apertura è chiaro un senso di apertura che sento rispetto al tempo che vivo e quindi allora avevo 16 anni e adesso ce ne ho 64 eppure vedo vedo esattamente il tempo che cambia quello è il 900 questo è il 2000 e sento che comunque bisogna sempre pensare all'esperienza artistica come qualche cosa in movimento è l'unica cosa veramente interessante che c'è è infatti la cosa più interessante del tuo lavoro teatrale e del tuo lavoro cinematografico è il fatto che in ciascun tuo film tu ti confronti sempre con il repertorio in certi casi in maniera diretta perché fai non so teatri di guerra magari adesso ne vediamo un pezzetto e poi lo commentiamo cioè teatri di guerra è la tragedia greca raccontata con la contemporaneità delle cose che succedono in certi casi ti rifai la tradizione napoletana cioè c'è sempre come dire un percorrere lo spazio avanti e indietro nel tempo insomma quindi questa esperienza di rivedere Philip Glass di risentire Philip Glass 50 anni dopo insomma potrebbe magari ispirare qualcosa del genere ma guardiamo insieme il primo estratto da teatro di guerra Mario sei un regista tridimensionale come pochi poi quest'ultimo brano è perfetto per descriverti ora mi hai già risposto ma da dove nasce questa tua contemporaneità di teatro e cinema cioè tu non sei un regista di teatro che poi diventa un regista di cinema tu sei un regista di cinema e teatro insieme e come nasce l'idea primeva qual è ma guarda allora Napoli anni 70 quindi bisogna pensare cosa era quella città cosa erano quegli anni erano anni appunto di contaminazione tra i linguaggi e io andavo in questo liceo dove andavamo insomma eravamo in tanti qui c'è Pasquale Mari che peraltro è il direttore della fotografia di teatro di guerra facciamogli un applauso ancora oggi una fotografia straordinaria in super 16 e quindi e andavamo a scuola Pasquale con Andrea Renzi Andrea è più piccolo di noi il primo spettacolo che abbiamo fatto io avevo 17 anni lui 14 quindi per dire e comunque c'erano insomma allora sai c'è la galleria di Lucia Melio andiamo a vedere la mostra di Beuys da Lucia Melio c'era la Cineteca altro e andavi a vedere quello che allora era il cinema nuovo cosa era il nuovo cinema americano il nuovo cinema tedesco Wenders Fassbinder Herzog tutte cose che oggi sembrano come dire mentre invece allora erano i film che uscivano uno dietro l'altro e quindi era Scorsese Coppola era tutto era tutto nasceva in quel momento insomma la musica c'era una grande voglia di almeno io insomma amavo moltissimo questa possibilità che la mia città mi dava di libertà tutto questo era anche poi non va dimenticato l'aspetto sociale e politico perché chiaramente tutto questo aveva poi il suo contraltare nella spinta sociale e politica degli anni 70 quindi chiaramente c'è quest'idea diciamo di dinamismo proprio del pensiero dell'azione era qualcosa di tutt'uno e niente io amavo il cinema sempre amato il cinema e quindi quando ho cominciato a fare i miei primi esperimenti alla fine degli anni 70 erano già esperimenti di di cinema a teatro allora c'era i super 8 i proiettori super 8 e si affittavano dei film quindi oggi confesso dopo tanti anni perché ormai è in prescrizione quindi che noleggiavo dei 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 film e poi tagliavo delle sequenze dei pezzi quindi proprio pessimo veramente li rincollavo con la moviola con lo scotch e usavo questi pezzi negli spettacoli che facevo quindi fronte del porto di Kazan cioè era un quindi era tutto contaminato facevo non avendo a disposizione nulla perché erano lavori che non costavano niente c'era la fortuna di avere un luogo come spazio libero diretto da Vittorio Lucariello che consentiva a chiunque volesse provarsi di fare delle cose Tony Servillo siamo nati insieme Tony a spazio libero tra le quali come me siamo dello stesso anno e appunto andavamo e facevamo delle cose chiaramente con quali soldi zero andavamo a scuola quindi io ne so prendevo per fortuna mio papà disponeva di un proiettore per diapositive di un proiettore superotto quindi io gli prendevo queste cose ma mi portavo un phone da casa lo attaccavo e c'era un bicchiere di plastica che si muoveva vicino al muro insomma che ne so facevo delle cose con quello che avevo con quello che poi alla fine Antonio Neiviller diceva fare con quello che c'è e questa cosa per quanto sia ancora oggi per me anche se faccio una regia alla scala comunque fare con quello che c'è tanto poco il punto di chi fa il nostro lavoro è fare con quello che c'è quindi allora allora c'era niente c'era poco ma quel poco però si allargava con l'immaginazione soprattutto su questa specie di frontiera cinema teatro quindi per molti anni ho fatto un teatro negli anni 70 e poi 80 con Tango con la ciale fino al ritorno ad Alphaville che è stato l'ultimo spettacolo di Falso Movimento una sorta di sequel del film di Goddard cioè si raccontava in questo spettacolo pensate che la prima idea era di fare in realtà uno spettacolo proprio dal film cioè la messa in scena del film ma pensata non come come dire il testo recitato ma proprio il film cioè quindi immagine su immagine così poi invece alla fine è diventato un sequel cioè l'idea che si tornasse 20 anni dopo su Alphaville su questo pianeta che era e vabbè questo è stato l'ultimo spettacolo di Falso Movimento dove io chiamai a lavorare Tony Servillo e Antonio Neville che aveva che avevo già chiamato a lavorare in uno spettacolo da un testo di Picasso che era il desiderio preso per la coda e dalla bellezza di questo incontro dalla sintonia che c'era dalla voglia anche di chiudere per me con questo teatro contaminato e invece la necessità di lavorare di all'inizio è come se fosse stato un Big Ben diciamo quindi tutto era caotico tutto era mescolato piano piano invece i fili hanno cominciato a separarsi e quindi mi è venuto incontro il mio primo film che è morto di un matematico napoletano in forma di film cioè quindi non è che ho pensato prima uno spettacolo teatrale no lì ho detto questa è la volta che invece adesso faccio un film forse non a caso in quello stesso anno o quello stesso periodo ho realizzato Rasoi che invece è uno spettacolo da Enzo Moscato che era invece il primo mio lavoro senza proiezioni senza cioè un lavoro asciutto dove c'era soltanto lo spazio la parola il corpo degli attori quindi diciamo è come se si fossero separati proprio a quel punto e da quel momento questi fili vanno si intersecano qui a Torino si sa bene perché voglio dire comunque quando sono nei miei dieci anni di direzione torinese prima c'era noi credevamo che è stato proprio tutti insieme diciamo con tutta la prima stagione della mia direzione a Torino negli 150 anni in Unità Italia insomma Steve Della Casa conosce molto bene quella storia e senza di lui secondo me non ci sarebbe stato film né direzione dello stabile e poi abbiamo messo in scena le operette morali poi tra Di Maio realizziamo questo adattamento e mettiamo in scena le operette morali grande scommessa che insomma era sempre l'inaugurazione del 150 natio alla presenza del Presidente della Repubblica sotto una cosa così mi ricordo ancora quando dissi vorrei fare operette morali per giunto al Gobetti manco al Carignano proprio al Gobetti e ancora mi ricordo proprio il panno che mi ricordo Filippo non so se c'è stasera Filippo Fonzatti Evelina Cristillen cioè insomma comunque capisco perché chiaramente nessun teatro lo voleva nessun teatro non lo prese nessuno quell'anno e e però comunque invece lo facemmo non sto a parlare di operette ma insomma voglio dire fu un grande invece successo poi l'abbiamo fatto per tre stagioni di seguito in tutti i teatri d'Italia e anche in Francia e così e comunque diciamo da lì nacque poi la spinta per fare Il Giovane Favoloso cioè senza operette morali non avrei fatto Il Giovane Favoloso infine Il Sindaco di Rione Sanità che è l'ultima produzione che ho fatto a Torino e che poi è diventata anche un film quindi è chiaro che spesso mi succede che queste linee si intersecano mettiamoci pure l'opera quindi che a un certo punto che è arrivata come terza diciamo nel mio nel mio lavoro però se è vero che è arrivata come terza è vero anche che però tutti i miei lavori degli anni ottanta erano tutti lavori fondati sulla musica era comunque teatro musicale cosa era tango di quelli che avevano visto gli spettacoli allora dice guarda è strano perché stranamente è come se delle cose di quel tempo si ritrovassero nelle tue regie liriche come era tango con la ciale allora chissà cosa era un Revox vediamo un po' vediamo i boomer in questa in questa guarda quante poche mani allora il Revox però Apocalypse Now l'avete visto allora all'inizio di Apocalypse Now c'è un grande registratore con questi grandi cerchi che girano e quello era il Revox cioè era quindi un nastro magnetico dove tu incidevi quindi noi preparavamo la colonna sonora che era tutta musica tango glaciale hotello tutti quegli spettacoli dei primi anni e controllo totale e quindi fatta la colonna sonora premivi diciamo il tasto del Revox il nastro partiva e su quello c'era tutta l'azione scenica quindi chiaramente era teatro musicale se vuoi come un'opera lirica e dunque ecco che diciamo le linee si incrociano io come pessimo presentatore mi sono dimenticato di introdurre David Grieco che è critico e regista teatrale che ci accompagna in questa conversazione e non ho detto che Steve purtroppo si dovrà allontanare intorno alle nove e non ho ringraziato soprattutto in questa collaborazione che per questo incontro il Museo del Cinema ma è qui presente il presidente Enzo Ghigo e ringrazio anche il direttore Domenico De Caetano volevo fare una piccola domanda prima di introdurre la prossima clip cioè in questo spezzone che abbiamo visto di teatro di guerra c'è anche una netta separazione tra un teatro che potremmo definire convenzionale e un teatro che allora diciamo in quegli anni si diceva di ricerca ora appunto diciamo la parola ricerca è un po' sospetta ma insomma in qualche modo un teatro che cercasse un po' di andare più in profondità secondo te questa distinzione è ancora valida? ma è chiaro che col tempo diciamo si capisce che sì comunque è ancora valida certo cioè è chiaro che esiste un teatro ma così come esiste in tutto così nella letteratura così nella musica così nel cinema voglio dire c'è un cinema un teatro una musica ci sono delle arti cioè c'è un modo di lavorare sull'arte in cui ci si pone delle domande delle domande sul linguaggio sulla sua funzione come dire anche sul suo rapporto con la realtà perché poi a me non piacciono discorsi su messaggi o come dire attualità i postini quelli li mandano i postini sì cioè una roba che non serve a niente però voglio dimmettere invece certo il rapporto con la realtà sì e ritorno Einstein on the beach visto 50 anni dopo perché è bello il lavoro di Susan Kennedy perché ovviamente è il lavoro di una regista giovane che oggi legge quella musica entra in quella musica da una porta che è quella del nostro tempo quindi è chiaro che è questo quello che è interessante quindi questo deve essere vivo sempre allora questo però ecco la differenza è che se magari quando ero ragazzo ero più manicheo e quindi naturalmente avevo come dire l'avanguardia era quella dove si rifletteva sui linguaggi sui codici eccetera adesso invece capisco che ovviamente ci sono modi diversi c'è un beh del resto insomma basterebbe pensare in senso cinematografico quello che è stato la nouvelle bag come è stato buttato a mare il cinema dei papà che invece conteneva chiaramente dei capolavori quindi è chiaro che però è difficile perché poi ovviamente è molto anche l'esperienza artistica è strana tutta una questione legata al tempo che è l'unico vero fatto perché è la nostra vita la nostra vita che è il tempo in cui la viviamo allora è strano perché l'esperienza artistica gioca una partita col tempo proprio però poi gioca una partita col tempo successivo cioè ci sono delle cose che infatti stranamente a distanza di molti anni si svuotano cioè come se tu vedessi delle cose che molti anni dopo hanno perso la loro forza e delle cose che invece stranamente invece si esaltano allora e questo cosa vuol dire appunto che l'esperienza fondamentale è quella del rapporto con lo spettatore cioè così come un libro esiste soltanto nell'esperienza del lettore cioè una volta che chi ha scritto il romanzo l'ha scritto e dopodiché ciao dopodiché quel libro dove vive vive l'esperienza del lettore così vale per il cinema così vale per e chiaramente il lettore cambia cioè il lettore lo spettatore non solo cambia perché cambiano proprio le generazioni quindi ci sono nuovi lettori nuovi spettatori nuovi ascoltatori ma perché tu stesso il tempo passa per te e tu stesso ti relazioni a quella cosa in una maniera diversa però questa è una delle cose più belle che c'è nell'esperienza artistica sì in queste ispezioni che abbiamo visto ci sono molti attori che poi appunto hanno continuato a lavorare anche con te e anche con me diciamo qui c'è Francesca Cutolo la ringrazio e in questo prossimo invece clip che vediamo il teatro diciamo che in teatro di guerra c'è pure Alessandra Cutolo c'è anche Alessandra Cutolo che fa però che domani ha un film qui quindi è bellissimo cioè ci sono delle cose dei ritorni oltre naturalmente ci sono una serie di artisti che non ci sono più e che rivedere è sempre un colpo al cuore però è così bello pensare a Salvatore Cantalupo a Bostik grande Bostik insomma è chiaro che abbiamo dei Lucia Ragni come no Lucia Ragni insomma sono quindi vabbè e questo è anche una cosa del cinema c'è il cinema comunque c'ha questa questa cosa di riportarti in vita delle figure e poi è la morte al lavoro il cinema è la morte al lavoro è la morte al lavoro è inevitabile quindi anche noi ci rivediamo tutti belli giovani così ma questo però quanto è bella questa cosa nella prossima clip che vediamo il teatro poi entra proprio nel film c'è il teatro come luogo come rappresentazione come ricostruzione di uno spettacolo e nelle prossime clip che vedremo c'è un'attrice che è anche presente qui che è Federique Lollier che è presente anche appunto diciamo stiamo lavorando insieme in questo prossimo spettacolo che è di Poré e la possiamo vedere in questa clip in queste due clip grazie io volevo dire una cosa cortissima che però è una notizia che forse non è abbastanza nota noi credevamo ha riportato il cinema nelle scuole è stato ha fatto un numero di proiezioni scolastiche centinaia 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 in un momento in cui il cinema non c'era più a scuola ti risulta penso no? io mi ricordo proprio i dati di Agis Scuola che erano impressionanti dal punto di vista statistico non lo so sicuramente è vero che tanti così che mi capita di incontrare persone che mi raccontano oggi magari sono un po' più grandi perché ovviamente noi credevamo un film ormai di un po' di tempo fa ma che però soprattutto la cosa molto bella di quel film che uscì quando c'era stata una grande occupazione delle università non so se vi ricordate era appunto il 2010 e ci fu una grande protesta universitaria e la cosa stupenda fu che perché il film era stato molto il film era molto contropelo rispetto al al risorgimento no? a un certo punto ci furono delle delle grandi polemiche dice ma come si presenta Mazzini come un terrorista però insomma era un film su dei cospiratori io avevo voluto raccontare questo lato diciamo mai raccontato questo lato oscuro della storia della nascita del nostro paese e quindi naturalmente certo allora non è che Mazzini fosse considerato un terrorista da tutte le polizie d'Europa non è che me lo inventavo io però questa cosa allora suonava molto molto grave però invece poi ci furono insomma il film ebbe una storia incredibile anche con i Mazziniani che all'inizio erano tutti arrabbiati e dopo invece dopo le varie proiezioni ci furono grandi abbracci grandi grandi quindi e la cosa stupenda fu che quando il film invece di non mi invitavano tanto i professori ma mi chiamavano gli studenti delle università occupate ricordo a Padova facemmo un incontro pazzesco ma anche a Roma a fisica occupata ora fisica a Roma è un Atene forse il più importante il più spinto il più evoluto degli Atenei romani quello diciamo dei Majorana Fermi eccetera insomma ancora oggi fisica a Roma mi ricordo questa proiezione fino alle tre di notte quindi con sì per dire che insomma quindi diciamo si riusciva a far breccia su una serie di aspetti politici diciamo ecco quindi raccontare il passato con un forte rapporto col presente quello che dicevo prima cioè quindi è una macchina del tempo quindi chiaramente tu come dicevo prima il tempo è la vera misura di tutto è il tempo inteso come elemento individuale personale di me regista delle persone che lavorano con me e degli spettatori quindi diciamo è una specie di flusso proprio così temporale e poi il tempo significa che se vai indietro nel tempo comunque ci vai perché comunque è dalla tua posizione di presente così come se vai avanti come nel caso di Ritorno Alfa Video Ritorno Alfa Video è uno spettacolo di fantascienza ecco quindi andare indietro andare avanti o essere invece nel tuo tempo come il caso di nostalgia poniamo quindi diciamo di volta in volta tu ti disallinei dal tempo però ti muovi e cerchi di soprattutto poi cerco di portare lo spettatore insomma insieme a me che poi quella è la cosa più cioè sentire sempre la dimensione assembleare che sia teatro che sia cinema che sia opera in questo film si vede anche una forte dimensione politica del luogo teatrale proprio anche appunto diciamo noi credevamo c'è proprio tutto avviene nel teatro è ancora politico il teatro credo allora c'è ancora un luogo in cui si fa no allora è diverso è diverso posso raccontare di quando appunto nel 76 prima ancora no appunto avevo visto insomma era il 76 comunque lo stesso anno in cui ho visto Einstein on the beach comunque insomma c'era una rassegna di teatro a Napoli al San Ferdinando che è il teatro di Luardo di Filippo era una rassegna di tutti i gruppi teatrali napoletani si pagava 200 lire prezzo politico e tutte le compagnie teatrali erano tutte improntate a un teatro molto politico appunto perché erano quegli anni erano gli anni diciamo della Napoli disoccupati organizzati insomma erano anni caldi dal punto di vista sociale allora noi andammo io non come regista in quel caso era prima era la primavera io poi nell'autunno ho fatto e c'era sempre Pasquale Pasquale con le facce pittate di bianco e con una cannella a mano così in uno spettacolo di tre ore che si chiamava I Mago spettacolo di super avanguardia figuratevi firmato da Luca De Fusco D'Antan quindi pensate appunto il tempo poi quante ne combina diciamo così e quindi Luca però faceva questo spettacolo un po' più grande di noi sempre a scuola sempre allo stesso liceo e noi andammo partecipavamo a questa e questo spettacolo che era quindi ispirato a Bob Wilson quindi diciamo naturalmente tempi estenuanti I Mago dai casi clinici di Freud figuratevi cioè lì era tutto teatro politico così si scatenò una cioè non si può credere cioè quello che si scatenò in sala con tutti gli spettatori che urlavano c'era lui nega ma io lo so che c'era me lo ricordo benissimo Renato Carpentieri che allora è potere operaio e quindi mi ricordo Renato che inveiva lui oggi nega ma invece c'era e niente noi andammo avanti imperterriti per tre ore sai quelle cose anche che ti formano perché comunque tu senti la e certo e alla fine al teatro di Edoardo nella zona popolare di Napoli la portinaia aveva delle galline e noi mi ricordo che rimanemmo fuori dai camerini però lì fuori dove c'era questa portineria con le galline non so quante ore perché gli autonomi stavano fuori che ci aspettavano per picchiarci capito quindi era un delirio totale questo per dire che sì il teatro ovviamente è stato ed è perché perché è un'assemblea perché il teatro comunque che cos'è uno specchio del tempo quindi ovviamente diciamo infinite sono le questioni che ogni volta si mettono in gioco il teatro è ancora politico secondo me cioè le scelte che si fanno sono da parte degli artisti lo sono ancora il modo in cui si può organizzare il teatro perché non dimentichiamo che il teatro non è solo l'aspetto formale cioè non è solo quello che si mette sul palcoscerico ma è come lo si organizza e come si lavora con le persone e come si usano i danari cioè il teatro è ovviamente da sempre una grande macchina anche no quindi però quello che è cambiato direi secondo me è invece è la società intorno cioè che è una specie di società come dire gassosa che assorbe tutto no per cui noi ci troviamo figuriamoci a zittirci a volte in discussioni di carattere ben altro che teatrale no che possono riguardare le tragedie del nostro tempo sulle quali alle volte preferiamo tapparci le orecchie e gli occhi pur di non partecipare a delle discussioni così avvilenti così prive di comprensione quindi è chiaro che a un certo punto è questo è più la galassia diciamo che c'è intorno è più come il teatro ma non sul teatro viene assorbito da questa specie di grande gas diciamo della comunicazione mediatica del nostro tempo che è una specie di cosa che si mangia tutto allora certo si mangia anche il teatro ma questo non vuol dire niente che secondo me comunque chi lo fa è bene che lo faccia invece continuando a pensare che fottendosene di questa galassia mediatica perché se no ti fai fregare vale anche per gli spettatori cioè anche gli spettatori cioè ognuno di noi deve in qualche modo resistere a questa cosa cioè continuare a pensare che quello che facciamo ha un valore ha un senso c'è una 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 dialettica perché c'è una dialettica possiamo ancora discutere possiamo ancora azzuffarci però appunto diciamo fuori da invece questa specie di macchina della non so come lo vogliamo chiamare no questa specie di macchina della della spettacolarizzazione del conflitto diciamo così dove alla fine ogni conflitto invece viene ingoiato e questa è la cosa tremenda perché noi abbiamo bisogno del conflitto il senza conflitto non si va avanti però del conflitto non di questa specie di rappresentazione cieca diciamo e così avvilente no che abbiamo intorno a noi quindi in questo il teatro una partita continua a giocarla e deve continuare a giocarla salutiamo Steve che deve andare via gli facciamo fare un applauso per il film di Mario Martone che è il documentario su Mimmo Iodice che siamo molto contenti da avere il programma del festival ciao Mario ci vediamo domani ciao Steve grazie Steve e no mi veniva da pensare che appunto abbiamo visto qui proprio all'astra dei spettacoli politici molto molto forti insomma al festival delle colline ringrazio Sergio Ariotti e Isabella Lagattola che sono qui stasera che appunto raccontavano esperienze del Medio Oriente diciamo così in questo momento ahimè purtroppo molto calde in quel senso appunto il teatro ci porta ancora una voce forse che nessun media in questo momento riesce a portare né attraverso le interviste né attraverso il no l'ogorante chiacchiericcio che c'è sempre intorno a tutte queste questioni quindi diciamo il teatro forse appunto ha una forza ancora politica soprattutto diciamo se disposti ad ascoltare quel teatro che viene è un'assemblea cioè lui l'ha definita come meglio non si può è un'assemblea perché c'è l'esperienza reale individuale cioè intanto c'è una concentrazione a cui tutti noi siamo chiamati in un momento in cui siamo in un teatro quindi diciamo c'è una concentrazione c'è un'attenzione c'è una ragione di essere insieme appunto un'assemblea e questo fa certamente il teatro del resto poi non è un caso che è l'unica espressione artistica non riproducibile in questo diciamo se vogliamo c'è una specie di radicalità politica inizita diciamo del teatro cioè il fatto che praticamente tu non lo puoi sì esistono e adesso magari ne parliamo le riprese degli spettacoli teatrali che sono una cosa che può essere fatta bene male in vari modi tra l'altro vi raccomando di vedere Romeo e Giulietta che ho fatto al piccolo che è appena passato su Rai 5 e adesso si vede su Rai Play e che devo dire l'ha fatto la Rai e non l'ha fatto male però ecco ci sono ma naturalmente questo è completamente diverso dal vedere il teatro in sala appunto introduciamo quindi una nuova clip di cui manderei soltanto il primo estratto che è finale di partita finale di partita è uno spettacolo che tu hai ripreso non era la tua regia era la regia di Carlo Cecchi si vedrà anche un Valerio Binasco direttore artistico comunque diciamo del teatro stabile di Torino in scena sì anch'io saluto Carla Galliano c'è questo sguardo tuo appunto diciamo rispetto al teatro che è sempre appunto lo vedremo in questa clip che guarda sempre un po' il teatro anche da fuori da dietro le quinte cioè anche questo sguardo del giovane Edoardo De Filippo che è appunto incantato sta in quinta e guarda lo spettacolo con questa gioia negli occhi meraviglia negli occhi che fa pensare un po' appunto a quella folgorazione di cui parlavamo prima quando arriva il demone del teatro il dio del teatro Dioniso vediamo pure questa clip grazie grazie anche questa è fotografia anche questa è fotografia anche luce dello spettacolo di Pasquale Mari se non sbaglio questo bisogna chiederlo a Carlo Cetti credo di no troppe che ne fa che manca si ricorda c'è quel carrello che è meraviglioso ce l'hai anche inquirito io però è diverso però è chiaro però ti dà una vertigine passare dal palcoscenico al retro ti dà una vertigine che dai allo spettatore la stessa vertigine che a chiunque entri dal palcoscenico e insomma sei sempre fuso nelle due cose mi ha fatto piacere vederlo non l'avevo mai visto questo allora lo spettacolo di Carlo Cecchi era la fine del mondo quindi consiglio di vedere sì no però devo dire non è male la mia regia però voglio dire vabbè poi con Carlo c'è un grande amore però era uno spettacolo secondo me stupendissimo e che proprio mi faceva piacere che che rimanesse ecco insomma e quindi l'abbiamo fatto sì quindi insomma per chi non l'ha mai visto se volete vedelo ma insomma ovviamente il mio lavoro è semplicemente di come dire di un omaggio a Carlo però diciamo la sua regia è strepitosa però c'è anche sì un omaggio a Carlo però con l'inquadratura appunto questo carrello che va dietro le quinte c'è Valerio Binasco vestito di rosso da solo lì che aspetta sta fermo cioè quello è proprio iper Beckett cioè è più di Beckett sì iper Beckett cioè l'attore che sta fuori che sta fermo là aspettare tutto quel tempo e che ma anche il montaggio ma il montaggio che hai fatto dei pezzi di teatro di guerra non so chi l'ha fatto avete fatto voi però voglio dire quello è un montaggio abbastanza perché ovviamente poi il teatro di guerra è un film complesso insomma ha mettato a Napoli questa compagnia che vuole portare questo spettacolo a Sarajevo quindi c'è la Bosnia c'è la Napoli di quegli anni c'è la Camorra insomma sono mille cose però diciamo e nucleati così si vede si vede questi tempi della i tempi della cioè appunto sempre continuiamo a parlare del tempo il tempo del teatro il tempo del teatro e anche il tempo delle prove del teatro il teatro non è soltanto poi quando va in scena ma sono è il farsi del teatro infatti spesso vedete che si vede gente che che sbadiglia gente che dorme perché ovviamente c'è un tempo che è un tempo fisiologicamente anche a volte le prove sono noiosissime cioè sono delle è quella fatica però quel valore la fatica è un valore ecco rispetto anche prima se c'è il teatro se vogliamo c'è l'aspetto politico del teatro al di là appunto voglio parlare di argomenti politici però c'è qualche cosa che è insito proprio nel nel fare teatro che in questi tempi rappresenta un valore perché appunto è qualcosa di appunto questa fatica del fare teatro fatica a volte apparentemente insensata perché tu le volte in cui ti trovi a teatro in un senso di insensatezza totale poi insomma non so quante persone fanno teatro stasera diciamo che più o meno possono capire quello che voglio dire però c'è un che non avviene per esempio al cinema che il cinema diceva tu l'insensatezza al cinema la puoi avere mentre scrivi mentre ma dal momento in cui cominci a girare puoi fare un cumulo di cazzate certo però voglio dire non però sei lì ogni giorno è così e giri e non capito non va a noi no voglio dire c'è quell'adrenalina quell'ipervita dico io del set mentre invece a volte il teatro altro che ipervita è una specie di undervita diciamo così c'è una specie di no è come tu sei sotto e c'è questi tempi e vedi quegli altri provare e vedi quegli altri che non ce la fanno e tu dici ma e tu sei lì sprofondi nella tua poltrona c'è pensi lo facevo meglio io allora tutte le cose cioè è un è un è un è un mondo sommerso che però diventa oggi anche un valore politico perché ovviamente ha una la questione è proprio quella dell'esperienza no dell'esperienza umana che è chiaramente faticosa quindi questa idea di arrivare a un debutto poi se è arrivato a un debutto e il suo spettacolo cos'è? è uno spettacolo venuto più o meno bene ma se ha questo spettacolo ha l'avventura di avere delle recite davanti oggi purtroppo questa cosa sempre più difficile però diciamo se ha l'avventura di questo spettacolo cambierà e potrà cambiare in bene potrà cambiare in male in genere i lavori buoni crescono con l'andare avanti e le recite mentre invece i lavori più così soppicanti invece più vai avanti più arranchi e questo pure è parte vedete com'è diverso è completamente diverso dalla icasticità di un di un oggetto mediatico contemporaneo c'è una c'è una c'è una fatica ecco questa fatica è un valore insomma e quindi magari questi spezzoni che si vedono che avete visto che poi sono dei pezzettini dentro un mare più ampio diciamo così che sono questi film ma raccontano un po' questo raccontano il valore di questa fatica mi spiace che non abbiamo visto più quella clip di qui ridò io invece in cui si vedeva prima dell'ingresso di Sony Servillo in scena un mondo totalmente antibecchettiano cioè proprio napoletano vittadissimo in cui c'è l'amministratore che fa i conti che dà i soldi che dice abbiamo incassato questo abbiamo incassato quell'altro c'è anche un mondo appunto invece di artigianato dietro il teatro che appunto a Napoli abbiamo conosciuto molto bene negli anni in cui il teatro non era ancora irregimentato dentro i canoni diciamo istituzionali del teatro ufficiale a proposito di avanguardia e cosa io mi ricordo sempre Beppe Bartolucci che è stato diciamo un critico molto importante un critico militante diciamo come si diceva allora negli anni settanta Beppe era come dire il papa del teatro d'avanguardia cioè era era colui che negli anni settanta e anche ottanta diciamo stabiliva in un certo senso chi era diciamo no chi era quindi insomma aveva una però appunto ed era però un uomo che questo signore adorabile che viveva poi con i gruppi con le compagnie dava a mangiare la sera cioè c'era una un no però mi sono scordato perché volevo parlare di Beppe perché aspetta rispetto alla io dicevo della vita che c'è dietro del teatro c'era c'era una cosa che volevo dire ti tolgo di me mi sono perso però comunque mi fa piacere pensare a Beppe che tra l'altro è stato uno dei direttori del teatro stabile di Torino adesso magari voi aiutatemi a far sì che non dica troppe fesserie però è vero è stato quindi quando portò Cunellis insomma c'era ma perché volevo parlare di Beppe comunque ah teatro classico e teatro esattamente brava grazie vedi i spettatori che che seguono allora no qual era la questione Beppe ci precettava per andare a vedere Edoardo De Filippo ci precettava voglio dire Meto ogni servillo cioè avevamo 16 7 anni quindi lui era noi eravamo i giovani leoni dell'avanguardia e lui quindi ovviamente ci diceva ci dava le direzioni le direttive cioè cosa fare cosa vedere cosa andare e lui ci faceva vedere Edoardo De Filippo e ci portava a vedere Salvo Randone questo a proposito del discorso dell'inizio cioè Beppe che era ma proprio super avanguardia cioè voi dovete vedere Salvo Randone voi dovete capire cos'è la grande arte della recitazione che non aveva niente a che fare con l'avanguardia per dire questi per esempio sono come dire cose che nella mia esperienza di artista da giovane diciamo mi hanno chiaramente comunque segnato perché appunto ecco cioè diciamo ma come Salvo Randone io non lo voglio vedere quel teatro lì pensaci Giacomino fatto da Salvo Randone era una regia inguardabile inguardabile insostenibile ma lui diceva tu non devi guardare tu devi guardare Salvo Randone devi vedere quello come recita e devi capire cos'è l'arte del teatro l'hai visto con Eliopetri poi Salvo Randone al cinema certo e beh figuriamoci straordinario una classe operaria in paradiso era un attore immenso però per dire mi ricordo perfettamente come lui proprio Beppe ma proprio ci precettava proprio Edoardo più facile perché certo comunque Edoardo e Filippo a Napoli e tutto ma perché Salvo Randone vai a vedere Salvo Randone capisci che cos'è recitare capisci che cos'è un grande attore rapporto a un testo dopo di che facciamo tutta l'avanguardia che dobbiamo fare ma tu intanto capisci quella cosa là bene qua la temperatura sta scendendo non so dalla parte vostra ma diciamo fa un discreto freddo quindi avevamo preparato altre tre clip di cui prego appunto da sopra se potete mandare soltanto la terza quella relativa a Capri Revolution perché mi premeva giusto appunto un attimo toccare quest'ultimo punto magari brevemente perché veramente si stava facendo molto freddo che riguardava un po' una cosa che è un po' difficile da dire ma penso che ci sia come una specie di metodo teatrale a volte nei tuoi film cioè ci sono delle scene in cui prepari il film come se fosse uno spettacolo ecco l'ho detto molto in sintesi mi fermerei qui e mi sembra chiara l'idea se siamo pronti per mandare la clip grazie ecco appunto dicevo c'è qualcosa che assomiglia alla preparazione di una scena di uno spettacolo teatrale per esempio in questa clip c'è una coreografia c'è uno la coreografa è Raffaella Giordano quindi diciamo grande artista torinese e con Raffaella certo abbiamo preparato c'è una preparazione appunto lunga abbiamo fatto uno dei punti fondamentali con in questo film si racconta di una comune che nella Capri di inizio novecento diciamo è come se fosse una comune hippie degli anni sessanta in realtà è una comune invece dell'inizio del novecento ma non starò a parlare di questo adesso perché per come magari qualcuno di voi il film lo conosce lo ha visto però insomma l'idea poiché c'era la danza e quindi l'espressione scenica insomma era un elemento centrale io bisognava creare questo gruppo questa comune che tra l'altro doveva a un certo punto essere appunto come si vede loro sono nudi e allora era stato fondamentale per me ho detto cioè con la produzione ci siamo messi d'accordo perché ci sarebbe stato un periodo iniziale per fare un laboratorio di Raffaella con tutte queste attrici e questi attori perché poi quando si cominciasse a girare in qualche modo questo gruppo fosse formato quindi esattamente come si lavora in teatro ma del resto sarebbe stato impossibile pensate mettere insieme queste attrici questi attori questi danzatrici e danzatori un giorno farli arrivare sul set e di ebbene adesso ci si spoglia e quindi è chiaro che e queste scene sono scene che sono state realizzate anche su una modalità di improvvisazione ovviamente quindi anche il modo in cui sono girate fa parte di questa cosa cioè nel senso voi vedete i corpi e le persone ma naturalmente ci sono delle macchine da presa dei fonici e il modo in cui cioè la danza che non vedi sullo schermo ma che è intorno allo schermo perché poi si possa realizzare la scena va gestita nello stesso modo cioè quando dicevo il cinema il teatro non è soltanto quello che tu vedi ma anche come lo fai cioè questo lavoro non sarebbe mai stato possibile farlo ci sono altre scene di questo tipo nel film con diciamo una modalità non cioè se tutte le persone quindi compresi i macchinisti gli elettricisti cioè tutte le persone che in qualche modo lavorano sul set se non fossero tutti nella stessa danza pensate per esempio a scene del genere se a un certo punto ci fosse qualcuno che fa la battutaccia che fa lo sguardo che fa la cosa cioè non sarebbe possibile quindi chiaramente è una specie di coinvolgimento collettivo dove tutti devono essere diciamo chiamati al senso di quello che stiamo facendo cioè non si tratta solo di riprendere delle immagini si tratta di condividere un'esperienza mi fa pensare al living theater sì certo naturalmente infatti prima dicevo c'è qualcosa che ricorda gli anni 60 no? e quindi naturalmente certo il living bene allora per chiudere intanto ringrazio soprattutto il teatro Piemonte Europa il TPE tutti i miei collaboratori che si dedicano tutti i giorni appunto all'attività del teatro e anche a queste attività collaterali come questi incontri che facciamo io ci tengo molto appunto a questo incontro e sono molto felice di aver avuto qui stasera Mario perché ho appunto una specie di pallino che stasera mi si è confermato che non tutti i registi di cinema sia chiaro ma alcuni grandi registi di cinema trovano una grandissima forza nel teatro e mi piacerebbe continuare a indagare questo aspetto diciamo del rapporto tra cinema e teatro ovviamente diciamo quando penso a questo penso soprattutto ai grandi registi come Fellini c'è una forza del teatro che c'è nei film di Fellini che non gli sarebbe potuta mai arrivare se non avesse avuto anche il dominio del teatro pur non avendolo mai fatto ma non è un caso che girava sempre nei teatri di posa usava spesso attori in modo teatrale insomma c'era qualcosa che ecco molto sommariamente definiscono la forza del teatro in alcuni grandi registi e stasera credo ne abbiamo avuto una riprova grazie e perdonate ancora per il frutto grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti